In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sierodato Gesù Cristo, Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Inizia il secondo episodio della storia sacra. Il titolo è Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre. Quando Dio volle creare l'uomo, disse con solennità, Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, perché abbia potere su tutta quanta la terra. Col fango della terra il Dio formò il corpo dell'uomo, poi gli alitò in faccia il soffio della vita, ossia l'anima, e l'uomo divenne persona vivente. A quell'uomo Dio pose nome Adamo, che significa fatto di terra. Il Dio pose Adamo in un delizioso giardino, detto Paradiso Terrestre. Là egli aveva radunato quanto di più bello era sparso sulla terra. Fiori, piante, animali, e un magnifico fiume che, dividendosi in quattro rami, irrigava l'intero Paradiso. Nel mezzo di esso, il Signore aveva fatto sorgere l'albero della scienza del bene e del male. Adamo ebbe l'incarico di custodire e coltivare quel meraviglioso giardino. Adamo era un uomo perfetto. Il suo corpo era bello e forte. La sua anima intelligente. Era un Paradiso di grazia e santità. Il Dio fece sfilare davanti a lui tutti gli animali ed egli con sorprendente facilità impose a ciascuno il proprio nome. Ma, fra tutte le creature, Adamo non ne trovò nessuna che gli rassomigliasse. Il Signore gli mandò allora un sonno profondo. Mentre dormiva, gli tolse una costola e con quella formò la donna. Adamo la colse con un grido di gioia e la chiamò Eva, che significa madre di tutti i viventi. Dio benedisse i nostri progenitori dicendo loro crescete e moltiplicatevi, riempite la terra e assoggettatela. Anche la nostra anima è stata creata da Dio a sua immagine e somiglianza. Il peccato originale Ovvero, il primo peccato Adamo ed Eva vivevano felici nel Paradiso terrestre. Ogni sera il Signore scendeva a conversare con loro, nell'attesa di condurli un giorno a godere il suo stesso gaudio in cielo. Prima però dovevano dargli prova del loro amore. Mangia pure d'ogni albero del Paradiso, aveva ordinato il Signore ad Adamo. Ma dell'albero della scienza del bene e del male non ne mangiare, perché il giorno in cui ne mangerai, tu morirai. La prova non era difficile. Ma il demonio, geloso della felicità dell'uomo, prese l'aspetto di un serpente e disse alla donna, «Perché non mangi il frutto di quest'albero?» Eva rispose «Perché Dio ce l'ha proibito sotto pena di morte». «No, voi non morrete», replicò il serpente. «Anzi, diventerete come Dio». Il folle orgoglio di diventare come Dio spinse Eva alla disubbidienza, colse il frutto, ne mangiò e lo diede a mangiare al marito. Poi, vergognati del male commesso, corsero a nascondersi. Ma Dio li chiamò forte. «Perché avete mangiato il frutto proibito?» Adamo si scusò. «È stata Eva». Eva disse «Il serpente mi è ingannata». Dio si volse allora al serpente e gli disse «Io pongo in imicizia fra te e la donna, fra la tua e la sua discendenza». «Essa ti schiaccerà il capo». Poi condannò Adamo ed Eva alla fatica, ai dolori, alla morte, e li scacciò per sempre dal paradiso terrestre. Ecco le gravi conseguenze del peccato. Sielo dato Gesù Cristo. Abolazioni Alcions